Fabio, cosa è successo ieri sera intorno alle 19? Che ho trovato i vetri della mia auto rotti con qualcosa di appuntito ed è una 500 Abarth Yamaha Energy. Era parcheggiata davanti ai bidoni dell'immodizia della fermata dell'autobus in via Cespi 2 a Rosciano e quando sono andato a casa dal lavoro li ho trovati tutti e due rotti. Qualcuno mi ha rotto i vetri con qualcosa di appuntito mentre stavo lavorando qui nel parcheggio di Rosciano. Solo gli specchietti laterali o anche i finestrini della macchina? No, gli specchietti, il vetro dello specchietto, tutti e due il vetro dello specchietto, quello di destra e quello di sinistra. È una cosa che è successa solo a lei oppure anche ad altre auto? Che so io, è successo anche altre auto, mi hanno detto. Mi ha detto la concessionaria che può essere stato un martello molto piccolo oppure una candela di un motorino appuntita, qualcosa di appuntito. Non ho fatto denuncia però bisognerebbe trovare di chi fa certe cose. Anche perché qui nei dintorni non ci sono telecamere di videosorveglianza? Non ci sono telecamere, toccherebbe mettere telecamere in tutto il parcheggio. Io chiedo che ci siano più controlli nel parcheggio e in tutta la zona di Rosciano. Chiedo che qualcuno venga a controllare cosa sta avvenendo, cosa sta succedendo.